Due match da non fallire in casa Sangio in vista dello sprint salvezza, da ricordare del resto che con Gavorrano prima e Colligiana poi esiste anche un fattore scontro diretto che potrebbe fare la differenza in caso di arrivo a pari punti. Quattro lunghezze nelle prossime due gare, questo l'obiettivo degli azzurri che alla sfida con il Gavorrano giungono recuperando Bisu a centro campo, l'assenza più pesante registrata nella non bella giornata globale di Rieti, nonché Mugelli che però, vista la perdurante assenza di Buccianti, potrebbe essere ancora dirottato in difesa sulla fascia destra, lasciando maggiore libertà offensiva all'ischi, tra i più in forma del Marzocco al di là della periodicità, con la quale sta entrando anche nel tabellino dei marcatori. Romanelli è favorito su Regoli a fianco di Invernizzi, l'attaccante entrò a gara in corso già in Maremma, ispirando prima la prima rete del pareggio di Regoli e poi pennellandone recuperò il pallone per il colpo vincente di Bega che significò sorpasso. Vero è che anche quel Gavorrano a livello mentale è abbastanza diverso, ma fuori casa è una squadra da pareggio per le statistiche. Lo stesso risultato, l'X, che è il più frequente per la Sangio tra le Muramiche, ma non necessariamente questo potrebbe essere definito come positivo da Malotti e i suoi.